Musica Carissimi telespettatori, ben ritornati con noi, ben arrivati anche ai nostri ospiti. A questo punto ve li presento subito, poi entriamo nel merito del nostro tema di quest'oggi. Ci sono anzi vari argomenti che andremo ad affrontare, molto interessanti e importanti. Allora, ben arrivata qui con noi, purtroppo saranno poco tempo perché per impegni di lavoro deve lasciarci l'onorevole Jessica Rostellato, Camera dei Deputati, PD. Grazie di essere qui con noi. Ben arrivata Federica Pietro Grande, Lega Nord. Buonasera a voi. Stefano Valdegamberi, consigliere regionale. Grazie di essere arrivato. Massimo Zanon, presidente regionale ConfCommercio Veneto. Grazie di invito. E poi abbiamo Patrizio Bertin, presidente Ascom Padova. Buonasera. Tiziano Tempesta, docente universitario Università di Padova. Grazie anche a lei. Allora, dopo lo spazio dedicato ai pensionati dello SPCGL per recuperare le pensioni, quali strategie bisogna utilizzare, quindi farla controllare, attenzione perché ci sono molti soldi che in tanti casi sono dovuti, vediamo di inquadrare un po' il tema della nostra trasmissione. Faremo un po' il punto della situazione della nostra attività economica produttiva. Il Veneto è in ripresa, abbiamo qui delle rappresentanze molto significative come ConfCommercio, Ascom, da una parte la regione, dall'altra un territorio come quello di Padova che è interessante. Quindi capire se stiamo andando avanti, come, in che termini, quali sono le difficoltà. E poi parliamo di questa questione molto pesante che grava su tantissimi cittadini e su tante categorie produttive che è quella del consumo del suolo. Esiste una legge regionale, anche molto recente, ma a livello nazionale c'è qualche cosa, potrebbe essere utile intervenire. Cosa vuol dire poi consumo del suolo? In che termini? Ci sono poi gli agricoltori in modo particolare che sono disturbati da questo fatto, ma ci sono anche i commercianti che quando si parla di consumo del suolo per edificare grandi centri commerciali non la vedono di buon occhio. E poi tutto l'edificato esistente. Che cosa se ne fa? Restano capannoni e tanti edifici che non vengono ripresi, ristrutturati e muoiono lì e deturpano il nostro territorio. Teniamo conto che la regione del Veneto è la seconda regione per consumo di suolo nel nostro paese. Non sono dati eclatanti. Prima di tutto poi faremo un po' il quadro della situazione, la legge di bilancio della situazione, se questa prevede delle agevolazioni per le categorie produttive, in modo particolare magari per il commercio, qualcosa relativo al discorso del consumo del suolo o comunque per vari settori interessanti per chi ci ascolta e per chi naturalmente è coinvolto. Prima di tutto per lo spazio e lo SPCGL. Vediamo insieme il contributo.